Ah, qui c'è a due? Eh, ecco, sono venuto oggi in Austria con i miei familiari, adesso lui è mio fratello, ecco deve regolare quello libro, il mio libro. C'è il mio libro che è scritto in romsa, serbica e albansca. Ora faccio due libri, ora siamo finiti. Ecco, ecco. e da bo te vrate i na drugu knigu da progetti sve najbolje samo vi dajte pare nema problema imaš i na srpskom mi su sponzori koji su pomagali evo sad i grilli je tu imamo ramazan, mi smo velmi muslimani i za to ne pijemo srbištvi amenolta moja zvezda moja zvezda to je na srpskom